che in realtà non arrivano a ferrare in altre organizzazioni ma credo che per secondo che c'è la sua, vuol dire, ha una sua umiltà, ha una sua autonomia io per questo credo che non c'è alcuni dubbi perché c'è forse un individuo che in questo spazio ci vuole dire quindi mi sembra comunque importante dire che questo è un giocomodio di te cioè è un tema del turismo, del turismo culturale nel senso che oggi non riusciamo a recitare le letture certamente viaggiando molto